Grazie a tutti. Non veniva pagata, la fine non ha pagato però, questo glielo posso dire. Non ha marziali, doveva pagare di sforzo? 8 milioni di euro non ha pagato, era previsto nella delibera. Non è questo il punto, il 24 novembre che dice il giudice? Mi fate in febbraio, noi troviamo tutto qui, poi siamo andati dal giudice, non ci fanno entrare. I documenti sono quelli, invece da lei se dobbiamo entrare o non dobbiamo entrare. Il giudice inizialmente ti ha fatto entrare subito, il 28 ci ha ridato l'ingresso e poi chiaramente qualcuno si dovrà prendere qualche responsabilità. E' successo, il giudice ti dà merito, ma non c'entra niente a diritto. Imponiamo tutto l'impianto. E' successo, quello è un fatto. Quindi voi entrareste in post... Ma io non l'ho mai fatto più. No, però Castelucci mi deve spiegare una cosa. No, no. Sì, però lei deve rispondermi le domande. La domanda è questa. Quando il giudice gli ha detto che voi potevate entrare in possesso dell'impianto, perché voi avete detto, io l'ho letta la cosa, c'è scritto che c'era motivo anche di ordine pubblico dovuto agli impianti di gas, non so che cavolo era. Ma comunque non è questo il punto. Voi siete rientrati in possesso però, lei sta dicendo soltanto della parte natatoria. Questo è un altro discorso. Ma questo te lo riesca a dire, perché in questo momento lei dice che la Marziale sta di qua con la sua security. Ah, scusi, scusi. Scusi, scusi, signora. Scusi, scusi, signora. Il tribunale non c'entra niente in questo, sì. Stiamo parlando di cose separate. No, se c'è una domanda, cioè quando voi siete dati lì, giustamente, loro non vi facevano più entrare qua il papeccolo, no? No, non vi detrava più nessuno. Esatto. E l'hanno come in un certo senso sequestrato, no? Ma non lo so, l'hanno fatto, ci hanno fatto più entrare. Voi siete dati da un giudice, il giudice vi ha detto, potete rientrare, siete titolati a rientrare. Esatto, ok. Perché siete titolati a rientrare? Solo una parte e non su tutto. Cioè, questo non... perché la marziale tiene la sua seguita? Qui ho... allora la domanda mia è... Ma non l'abbiamo avuto, non è fatta? Come facciamo? Sì, ma adesso la responsabilità è di questa... Ma sulla piscina, allora... La fine, cosa ci succede? Non ci succede, 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 non ci succede. Però mi si capisci che mi conti, non ci succede. Non ci succede. La parte... c'è una parte che si... La delibera 85 del Comune di Roma dice... C'è una parte che è finita, ecco guarda, che è chiaro. Non ci succede, non ci succede, non ci succede, non ci succede. Ma non ci succede, non ci succede. Ma, che lo fai? Ma quello che è finito, perché è già finito. Non ci succede, non ci succede... Però, praticamente, la fine avrebbe tutto rimpianto. Ma quando sarà finito è normale che c'è tutto, che c'è da un pezzetto, un domani sarà tutto della fine, un domani è la fine del mese, scusa, adesso c'è il cantiere. Siamo cittadini, siamo cittadini tutti.